E' bastata una telefonata con una richiesta d'incontro. E' stato questo l'approccio con cui Monsignor Mario Russotto, Vescovo della Diocesi di Caltanissetta, ha manifestato a Doriana Mannella, presidente dell'Alba Verde, la volontà di parlare con le ragazze della squadra dopo la vicenda che ha riguardato un prete colto a spiare le atlete negli spogliatoi del Palacanizzaro dove abitualmente si allenano e giocano. Sabato, presso il seminario Vescovile, il presidente della società Nissena e una delegazione di ragazze sono state accolte da Monsignor Russotto che ha voluto chiedere scusa a nome suo personale di tutto l'ordine sacerdotale per l'ingrescioso episodio. In una nota rilasciata dalla pagina Facebook della società, Oriana Mannella ha dichiarato che si aspettava una reazione da parte della curia e da credente ha apprezzato che sia stato il Vescovo in persona a metterci la faccia, manifestando il suo dolore per la vicenda. Rimane la volontà della dirigenza, in comune accordo con le atlete, in buona parte giovanissime e i loro genitori, di seguire gli sviluppi della vicenda, non essendo ancora chiaro se vi sarà un seguito giudiziario.